buongiorno noi dovremmo fare un ripasso di storia ogni tanto soprattutto quando ci sono queste ricorrenze oggi ricorre il 2 giugno e la festa della repubblica ma noi dovremmo ripassare un po la storia e magari capire se non siano stati proprio i nostri re a far sì che questa poi diventasse una una grande nazione vi ricordo appena che lo statuto albertino è stata la prima costituzione d'italia che è stato un re che ha voluto l'unità d'italia come stato l'ultimo re di maggio umberto di savoia a far votare le donne quel famoso 1946 sui risultati del referendum repubblica monarchia restano dei grandi dubbi che la storia non ha mai chiarito ma non è qui che voglio soffermarmi piuttosto voglio soffermarmi sul fatto che noi abbiamo una costituzione italiana che è stata fatta scritta col sangue dei nostri padri e che è stata violata in questi tre anni lo sostengo o fino alla morte è stata violata sono stati calpestati tutti i diritti costituzionali quindi non mi si venga a parlare di festeggiamenti della repubblica io mi dissocio fin quando non viene ripristinata effettivamente la democrazia il senso di legalità in questo paese ma mi dissocio soprattutto perché ancora una volta non solo ci stanno avviando verso uno stato di eccezione e di emergenza continua per tenerci sotto controllo e a bada ma soprattutto mi dissocio dal festeggiare il 2 giugno perché ritengo che è stato violato l'articolo 11 della costituzione italiana perché la repubblica italiana ripudia la guerra quindi fino a quando verranno fornite armi soprattutto a una nazione che non fa parte della nato e dell'europa fin quando verrà alimentata la guerra io mi dissocio da festeggiare il 2 giugno buon pomeriggio a tutti